4.000 docenti, 150 espositori istituzionali e associativi, 100 workshop. Sono questi i numeri della prima edizione italiana di Didacta, la più importante fiera europea dedicata al mondo della scuola e dell'educazione. Didacta è nata in Germania e in questo paese si è svolta per oltre 50 anni. L'edizione italiana è stata presentata nella sede della Giunta regionale e si svolgerà dal 27 al 29 settembre alla Fortezza da Basso di Firenze. È la prima volta che si internazionalizza, cioè che esce, che travalica i confini della Germania, quindi ospitarla in Italia, in Toscana, a Firenze è per noi un grande onore. Didacta sarà quindi per tre giorni un luogo di dialogo e confronto sulle buone pratiche della scuola e dell'innovazione, attraverso convegni, seminari, laboratori, mostre e una moltitudine di eventi per gli studenti e le famiglie che si svolgeranno nelle piazze e nei palazzi storici di Firenze. L'edizione italiana di Didacta è il risultato di un'importante collaborazione istituzionale. C'è stato un lavoro del comitato organizzatore importantissimo. Noi abbiamo partecipato come Regione Toscana, insieme al Comune di Firenze, insieme al Ministero, al MIUR, insieme a Indire, naturalmente insieme alla Fiera di Firenze, alla Camera di Commercio Italo-Tedesca. La Regione Toscana sarà presente a Didacta con uno stand realizzato grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Lo stand ospiterà seminari tecnici rivolti al mondo della scuola e alla presentazione di iniziative e progetti realizzati dagli studenti toscani nell'ambito di azioni di sistema promosse dalla Regione.